Chiedevano se c'erano appartamenti in affitto oppure si proponevano come parrucchiere o massaggiatrici, dottoresse o fisioterapiste. In realtà erano tutte scuse con cui due intrattenevano le persone anziane mentre le altre sgattaiolavano negli appartamenti per rubare soldi e gioielli, banco, matto e carte di credito. Un raggiro tradotto in 24 colpi in pochi mesi in tutto il centro Italia per un bottino complessivo che supera gli 80.000 euro. Nelle Marche i colpi ai danni degli ignari nonnini, le vittime hanno tutte più di 70 anni, alcune sono quasi centenarie, sono andati a segno ad Ancona, Senigallia, Falconara, Chiaravalle, Ascoli Piceno, San Benedetto, Monsampolo del Tronto e Servigliano. In carcere sono finite quattro donne di etnia Rom, tutte originarie della provincia di Teramo. Si tratta di due sorelle di 61 e 53 anni, della figlia quarantenne della prima e di un'altra, 44enne. Cambiando abiti e make-up riuscivano ogni volta a modificare il loro aspetto, ma alcune testimonianze preziose delle vittime hanno consentito di individuarle. L'indagine dei carabinieri di Osimo per l'operazione denominata Romani, dal gergo del sodalizio femminile della truffa, era partita da un'altra operazione sempre per furti in appartamento ad Ancona. Fate attenzione e denunciate, è l'appello dei carabinieri. Difidare da persone che si avvicinano alle abitazioni, chiedendo di effettuare verifiche per i rifiuti differenziati, per le utenze domestiche oppure per qualsivoglia motivo dell'approccio. Delle volte nemmeno avviene la denuncia perché consegue poi uno stato psicologico dove la vittima si vergogna anche di confidare ai più stretti congiunti ciò che è accaduto e quindi poi a distanza di qualche tempo emerge il reato. Laddove dovessero essere segnalate delle situazioni che sembrano tentativi di truffa, chiamare subito il numero di emergenza 112 e far intervenire una pattuglia sul posto.